se desintossiciamo oggi pranzo in sede sociale con le mie femmine iphone mi ha detto che ha bisogno di un po di riposo anche lui vuol fare una pennica nella tasca della mia medica e allora video post e modalità aereo per un'ora un'ora e mezza telefonino off cervello off anzi cervello on per le mie donne per la comunicazione non quella necessariamente tramite post non perdiamo l'abitudine di parlane di comunicane perché qua tra un po' ogni tanto mi arrivano in whatsapp da una stanza all'altra dell'ufficio e secondo te sto male tecnologia sì iper tecnologia no sano contatto visivo vocale mani addosso lingua in bocca a pennello secondo te sto male abbiamo avuto l'aventador abbiamo avuto l'f12 abbiamo avuto il prodotto italico del presidente oggi davanti alla sede sociale tanta roba cayenne che è il portiere portinaio chatenet big and bad in doppia fila secondo te sto male viva la vita vado a mangiare aereo off ho un po' l'oro e viva la vita questa è spiralia bella per noi grazie 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 grazie